Gentili telespettatori, buona giornata. Giorgia Meloni, saluto romano e titolo incredibile del manifesto. Il manifesto si manifesta. Forse è la redazione più rossa d'Italia e non hanno preso bene la vittoria di Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia. È un bel problema psicologico per tanti in Italia. E così si arriva a fare titoli, a mettere foto di cattivo gusto. Però questa è un'altra cosa. I titolisti della prima pagina. Non è uscito un titolaccio telefonato, oltre che ovviamente un po' offensivo. Il fascistissimo a noi, scritto cubitale, con una foto della Meloni che si rivolge alla platea, colta guarda caso, nel momento in cui il braccio sembra teso in un saluto romano. In realtà sta... è l'inquadratura. L'inquadratura della fotografia da sotto sembra un saluto romano. Ma se l'inquadratura fosse stata fatta ad altezza, normale. Era uno che sta parlando così, dicendo... allora facciamo... però visto inquadrato da sotto sembra un saluto romano. Pertanto fare un titolo dove metti una foto che non è manipolata, ma è fatta in un certo modo, e poi scrivi a noi, insomma, definisce chi gestisce questo giornale. Ecco. il copione è evocare il ventennio. Beh, ci hanno giocato con Berlusconi e Salvini, descrivendoli come gerarchi, nuovi dittatori. Adesso che c'è l'originale Fratelli d'Italia, cioè la vera destra, no? Si accusava Berlusconi di essere il Cavaliere Nero quando era un imprenditore che scendeva in campo per difendere se stesso e le sue azioni. Paura, eh? Per difendere se stesso e le sue azioni e le sue aziende e le sue azioni lo vedevano come il Cavaliere Nero e c'è gente che c'è cascata. Poi addirittura vedevano Salvini, ma dai, Salvini, insomma, come si fa a reputarlo un nostalgico, quello è il nostalgico della Padania, non di chissà che. Ma oggi che c'è l'originale destra, la prima volta al governo, allora si sbizzarriscono nell'evocare il ventennio con fotografie, con angolature prese da sotto, no? Ecco, e con il titolo A Noi, no? Che A Noi era uno degli slogan mussoliniani del ventennio. Ecco, così il manifesto di Norma Rangeri riesce a sorpassare tutti, il domani, la Repubblica, la stampa, quei quotidiani che sono monotoni nella propaganda contro la Meloni, forti di settimane di allarmismo sulla nuova Ducetta, perché a Roma, parlando con un signore che saluto, lui sa di chi sto parlando, un signore che ho incontrato sulle scale ad Ostia che ho scoperto che era un gentile telespettatore e mi dice, sai come la chiamiamo qui a Roma la Meloni? No, dimmi, come la chiamate? La Ducetta. Ah, non lo sapevo, insomma, solo girando l'Italia poi scopri tante cose che se no non puoi sapere, non puoi scoprire, ecco. Insomma, così, quando oggi vedo che l'allarmismo sulla nuova Ducetta è perché proprio a Roma chi non è meloniano la chiama così. Insomma, adesso sto guardando la prima pagina del manifesto dove c'è questa foto di Meloni, in prima pagina, tutta la pagina, con questa foto con l'angolazione presa da sotto che sembra veramente un saluto romano, ma immaginatevi se la Meloni fa i saluti romani mentre sta parlando, dai. C'ho scritto gigantesco a noi. Insomma, mentre Molinari Meloni si prende l'Italia, ecco, Feltri che diceva Stefano, siamo davvero pronti? Ecco, insomma, ci tocca già rimpiangere l'Italia di Mario Draghi, sono un po'... oppure ci sono quei giornali, ad esempio, come Repubblica che mette la foto di Meloni in bianco e nero. Attenzione che sono tutti messaggi subliminari. Perché la foto di Meloni in bianco e nero? Perché è il dittatore, ci sono foto in bianco e nero principalmente. Ecco, tutto questo rievoca il passato, cerca di fare un collegamento, di far vedere che c'è una continuazione tra passato e presente. E qui siamo di nuovo sulla stesso tipo di propaganda diletta, dove non c'è un questionamento delle scelte, delle visioni. Cioè non si parla di cosa vuole fare Meloni, ma si va a compararla con il ventennio, come hanno fatto con Salvini e come hanno fatto con Berlusconi. Ha portato la sinistra a vincere questa comparazione? No, li hanno portati a perdere. E allora perché continuano a fare così? Perché non sanno cos'altro fare. Non hanno la capacità di contrastare il centrodestra sui temi. Avete visto sui temi quante cose ha proposto il centrodestra? Hanno provato ad alzare la voce sul blocco navale, hanno scoperto che la sinistra l'ha fatto nel 1997, che l'ha chiesto l'Europa con Gentiloni del PD. E allora per esempio sul blocco navale non hanno saputo più che cosa dire. Pertanto la Meloni vuole cancellare la legge 194. E non è vero. Adesso si scoprono pacifisti. Sono diventati da un giorno con l'altro, da fedelissimi della Nato in linea con Draghi e tutti, diventano improvvisamente pacifisti. Poi vanno in piazza a protestare contro un governo che non esiste. Va Orlando, ministro del lavoro, a protestare con la CGL contro proprio il ministero del lavoro e le politiche che ha fatto in questo governo dove proprio Orlando è il ministro. Quindi un ministro che va a protestare contro se stesso, una sinistra che protesta contro il nulla, i giornali che mettono le fotografie in bianco e nero per rievocare. Capite la pochezza di questo? Capite che questo non funziona più, ammesso che abbia mai funzionato. Anche negli anni 90 non ha funzionato con Berlusconi perché ha governato per oltre dieci anni. E insomma, arrivederci a tutti e grazie.